Impossibile identificare una specifica responsabilità penale, le responsabilità sono diverse e diffuse e da ascriversi a decisioni e provvedimenti di più soggetti nel corso degli anni. Con queste motivazioni la Procura di Firenze ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta per disastro colposo dopo il crollo del Lungarno Torrigiani il 25 maggio scorso. Troppo fitto il reticolo di competenze per individuare il colpevole, che quindi non c'è. Se non il tubo da cui è uscito ad alta pressione un milione e mezzo di litri di acqua. Almeno questo è ciò che si evince dal rapporto del procuratore Giuseppe Creazzo e del sostituto Gianni Tei che vanno oltre. La Procura sottolinea infatti che la rete idrica è vecchia, quindi quello che è successo nel Lungarno Torrigiani potrebbe accadere ancora. Non solo. La perdita di acqua dai vecchi tubi è del 36%, la media nazionale del 40%. Quali siano poi i tubi messi peggio del reticolo di 1200 km tra Firenze, Prato e Pistoia non è dato saperlo perché nessuno da Palazzo Vecchio all'autorità idrica ha una mappatura precisa dell'intera rete. I più recenti sono del dopoguerra, ma ancora molti tubi nei quali scorre la nostra acqua sono targati poggi, Firenze capitale, 150 anni fa. Investimenti di manutenzione sono stati fatti, ma solo da quando c'è publiacqua e comunque minimi, tutti pagati con il progressivo aumento delle bollette. Ma per ripristinare tutta la rete ci vorrebbero almeno 90 milioni l'anno e nemmeno la bolletta basterebbe visto che più di un tot non può aumentare. Quindi riassumendo, nessun responsabile, pericolo intatto e diffuso ma senza avere idea di dove, incertezza fino all'impossibilità di risolverlo. E poi ci sono i 5 milioni anticipati da Publiacqua per rimettere a posto, a tempi di record, il Lungarno Torreggiani. Il sindaco Nardella, lanciandosi nei giorni successivi il crollo in una azzardata, alla luce dei fatti, accusa Publiacqua, strappò alla partecipata di Palazzo Vecchio un accordo in base al quale quei costi non sarebbero finiti in bolletta, con un rimando però all'accertamento di responsabilità da parte della Procura. Responsabilità impossibili da individuare.